Presentato questo pomeriggio a Bocca di Magra è il nuovo assetto operativo del parco di Monte Marcello Magra. Dopo il recente bando le guardie volontarie sono passate da 9 a 24 unità con possibilità di ulteriore allargamento mentre il potenziamento dei mezzi prevede anche la dotazione di un'imbarcazione donata al parco dalla società intermarine. Tutela del territorio, sorveglianza delle acque fluviali e marine, lotta all'abusivismo sono i cardini dell'impegno annunciati dal presidente Pietro Tedeschi alla presenza dei rappresentanti dei comuni aderenti al parco della Capitaneria di Porto e dei cittadini. Questa sera stiamo organizzando, preparando la presentazione del nuovo sistema di vigilanza del parco che comprende mezzi, mezzi terrestri che mezzi marini, qui c'è la barca donata dall'intermarine ma soprattutto comprende le guardie, l'ulteriore 15 guardie che stiamo inserendo. È un fatto fondamentale che in un momento difficile come il parco attraversato nei mesi scorsi al nostro appello di richiesta di avere del 9 guardie hanno risposto in 70 e abbiamo poi selezionato, formato 15 guardie nuove che oggi sono qui. Quindi 15 guardie più 9, le vecchie guardie del nostro parco, le storiche guardie del nostro parco, fanno 24 persone che noi divideremo per settori e che saranno di garanzia e di salvaguarda del territorio, sia per la parte di terra sia della parte di mare. Finalmente abbiamo una barca dietro di noi che utilizzeremo per le verifiche sul fiume. Abbiamo da attivare il piano della nautica, abbiamo da smascherare molti abusivi e credo che da questo punto di vista questo nuovo inserimento e questa volontà civica di queste persone che oggi hanno deciso di dare il loro contributo per l'ambiente e per il territorio rafforzi il parco e dia un messaggio chiaro. In questo territorio ci vuole più parco e più salvaguardia. Gli onori di casa da parte del sindaco di Amelia che considera il lavoro del parco un patrimonio per la comunità locale. Beh certo è una grande risorsa perché comunque tuteleranno quello che è il territorio, il paesaggio e tutto quello che è all'interno del nostro parco e sono guardie volontarie quindi comunque sia utilizzano il loro tempo libero per tutelare il nostro territorio e questo è veramente una bella cosa e veramente gli va dato un grande abbraccio, un in bocca al lupo, un plauso perché fare volontariato e farlo sul nostro territorio è veramente una cosa molto valida e molto lodevole. Nel corso della presentazione del nuovo assetto il presidente tedeschi ha posto alcune richieste per poter far ripartire con maggior lena il parco. La rinascita dell'orto botanico e la riattivazione del punto informativo di Montemarcello in convenzione con il comune, così il sindaco. L'orto botanico è una di queste strutture quindi vedremo come farlo rivivere sicuramente attraverso una collaborazione del parco e attraverso appunto le associazioni. Negli ultimi anni l'orto botanico è stato fatto lentamente morire proprio dal parco quindi rinnovare la convenzione vecchia non va bene, bisogna trovare nuove energie e nuove risorse ma mi sembra che ci siano tutti gli elementi sia nella volontà e nelle parole del presidente del parco che nella mia.